ciao amici benvenuti nella cucina di zia jo oggi ho fatto questi cioccolatini tipo raffaello sono di una squisitezza unica creano dipendenza ve lo dico ma con degli ingredienti semplicissimi ed è una ricetta super veloce avete bisogno del cioccolato bianco delle mandorle a stick oppure lamelle io avevo questi ho usato questi del coccorapè e un po di zucchero a velo tutto qua intanto che facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato mettiamo gli sticks nel fornetto a farli un po abbrustolire così hanno un sapore più buono poi quando il cioccolato è sciolto ci mettiamo le mandorle nel cioccolato ce lo buttiamo dentro poi intanto in un ciotolino ci mettiamo il coccorapè con lo zucchero a velo e mettiamo anche tutto nel cioccolato nelle mandorle mischiamo tutto bello bello sin quando si compatta tutto e poi lo stendiamo un po sul carta forno a raffreddare quando è leggermente proprio tiepido diciamo così non freddo freddo ma tiepido facciamo con dei cucchiaini diciamo delle palline ma non escono proprio palline però fa niente così come le vedete in foto e lasciamo raffreddare al tempo loro piano piano sino al mattino perché io questi li ho fatti di sera bene poi li ho messi in un boccaccino decorato un po con un nastrino e l'ho regalati provateli e alla prossima ricetta provateli e alla prossima ricetta